Luca Giuffrida, ultima partita del Girone, 4 punti, penso che passerete in base a altre squadre che sono a 0 punti, anche me è chi fa cos'è in più, è una partita molto sottetta, un parecchio sessi che passerete. Insomma sì, abbiamo fatto una bella partita, eravamo anche in 5 griglisi, perciò senza cambi si stanca, si stanca poi con questo caldo, sembriamo il Brasile, quasi quasi, però l'importante è che ci divertiamo e alla fine abbiamo fatto un buon parecchio, con una bella squadra. Ambizioni? Ambizioni, ci divertiamo, l'importante è che ci divertiamo. Allora, ambizioni. Grazie, ferma.